con una violenza immediata dell'uccisione, ma hanno una serie... C'è un'evoluzione, certo. Quindi a riconoscere questi elementi che sono l'inizio di un processo che porterà poi a quella violenza definitiva... Però purtroppo è proprio quello il passaggio di cui non ci si rende conto. Esattamente. Perché magari la donna tende a dire, non so, ma sì certo, però forse ho sbagliato io, e però gli ho risposto male, ma che stiamo dicendo? La donna tende a dire, lo cambierò, cambierà, cambierà. No, non si cambia nessuno. No, si può migliorare, si può migliorare anche culturale. È una questione culturale. Quindi andare anche nelle scuole, tra i bambini, tra gli adolescenti. Io penso questo, la rieducazione ai sentimenti, anche come materia di insegnamento nelle scuole, ma anche al centro di una rivoluzione culturale nella famiglia. Sono d'accordissimo. Perché già dai primi anni di vita bisogna insegnare questo. Poi arrivo, Barbara, arrivo subito, perché volevo sentire un attimo, ecco Mario, perché è interessante quello che accade nel libro di Mario, ovvero racconta dalla parte dell'uomo, perché dall'uomo che è poi la guzzino, se vogliamo. Sì, è la storia di un uomo che è stato abbandonato dal padre da ragazzino e lui questo abbandono non l'ha mai superato. È molto aggressivo, è sempre arrabbiato con la vita, crede di essere in credito nei confronti della vita. E che cosa fa la vita quando tu non superi una cosa? Te la ripropone, sempre, perché tu la devi superare. Questa è proprio una legge della vita, c'è poco da fare. E ogni volta alza il prezzo, perché il cambiamento può avvenire solo quando il dolore del restare nella situazione in cui sei è più forte della paura e della fatica del cambiare. Quindi quando non ne puoi più e quindi la vita come mamma non ti risolve il problema, ti spinge a superarlo. E quindi ti ripropone e alza il prezzo e lo fa abbandonare dalla sua donna. Infatti spesso si reiterano anche questi reati, questi fenomeni di violenza. Pensiamo a Romeo, quello che è accaduto in Spagna. Questo uomo ha ucciso la nuova compagna e in quell'occasione ha confessato di aver ucciso anche la nostra povera amica. Pesante, pesante, pesantissimo. Se la regia mi conferma che è pronto il nostro Stefano Fumagalli, noi vorremmo andare a Senago, dove appunto c'è stata...